Gli effetti del dopo Brexit scuotono la Gran Bretagna, i favorevoli all'Europa continuano a raccogliere le firme per presentare la petizione con la richiesta di ripetere il referendum. Scatta l'ora della resa dei conti nei due schieramenti tra i laburisti, Corby nel sottoaccusa non avrebbe fatto abbastanza per evitare la sconfitta. Lui dice che resta al suo posto e si lura a Hillary Benn, la Scozia cerca i cavilli legali per bloccare la sua uscita dall'Unione Europea. I leader europei studiano le strategie per limitare le conseguenze del referendum britannico, Renzi incontra Hollande, i due concordano, uscita rapida di Londra. Ma l'Unione, se vuol salvarsi, deve cambiare rotta entro sei mesi, deve mostrarsi unita e attuare quelle riforme che da più parti le vengono richieste. Lune di vertice a Berlino con Angela Merkel. Oggi la Spagna le urne dopo che le politiche di sei mesi fa non hanno prodotto un governo. Podemos e il suo leader, Pablo Iglesias, sono dati per favoriti, ma hanno contro tutti gli altri partiti, a cominciare dai popolari del premier Mariano Rajoy, a pesare le incognite e il 20% di indecisi e gli effetti della Brexit. Probabile che dopo il voto veda la luce un governo di coalizione. Arrestato nella notte il boss dell'Andrangheta Ernesto Fazzalari. Carabinieri lo hanno sorpreso nel suo covo nei pressi di Tauria Nova. Ritenuto il secondo ricercato più pericoloso dopo Matteo Messina Denaro. Era latitante da vent'anni. Deve scontare una condanna all'ergastolo. L'annuncio della cattura è stato dato via social dal presidenza del Consiglio Renzi, che si è detto orgoglioso di giudici e forze dell'ordine. In TG Cronach i dettagli dell'operazione. Il Galles per la prima volta nella storia ai quarti di finale di un europeo, promossi anche la Polonia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha eliminato la Croazia. Oggi in campo anche Francia e Germania, ma gli occhi sono puntati sulla sfida di Parigi, dove domani l'Italia affronta la Spagna. Conte torna alla formazione che ha battuto il Belgio. Unico dubbio tra Darmiane e De Sciglio. Buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale. Naturalmente buona domenica. Cominciamo con il terremoto provocato dalla Brexit, che adesso preoccupa l'Europa e soprattutto la Gran Bretagna. Questo lo dimostra la petizione che ha raggiunto ormai 3 milioni di firme di chi chiede di ritornare al voto, di fare un nuovo referendum per ribaltare l'esito e rimanere in Europa. Dunque tante notizie, sono molti quelli che vorrebbero tornare indietro, ma la notizia dell'ultima ora è che il Parlamento di Edimburgo, tramite la propria Premier, ha detto che sarebbe pronto a bloccare la Brexit. Non è stato ancora precisato quali siano le basi legali, ma il Parlamento potrebbe cercare tramite un voto dell'Assemblea appunto di bloccare la Brexit, lo ipotizza la leader scozzese. Vediamo subito il servizio. Il terremoto Brexit non ha ancora finito di scuotere il Regno Unito, dopo che David Cameron, il Premier conservatore, si è dimesso subito dopo l'annuncio ufficiale della vittoria del Leave, adesso trema la leadership del capo dei lavoristi, Jeremy Corbyn, accusato da molti militanti di essere uno dei responsabili della disfatta del Remain, per aver fatto una campagna elettorale pro-Europa talmente poco convinta che ha finito col gettare tra le braccia del Leave anche i propri elettori tradizionali, come in Galles, dove il Lebur aveva vinto nelle elezioni politiche dell'anno scorso e dove hanno prevalso i no all'Europa. Al contrario di Cameron, Corbyn dopo il voto aveva detto di non avere intenzione di lasciare, ma dentro il partito la ribellione è arrivata al punto di rottura e si sapeva che alcuni parlamentari preparavano per domani una mozione non vincolante di sfiducia. La notte scorsa Corbyn ha assilurato il ministro degli esteri del suo governo Ombra, Hillary Benn, accusato di essere il capo dei cospiratori, ma adesso è proprio scontro aperto con almeno la metà dei ministri pronti a dimettersi per solidarietà col collega in aperta sfida, Corbyn stesso. Anche perché nel paese comincia a tirare aria di elezioni anticipate e i ribelli sono convinti che andare al voto guidati da Corbyn significherebbe per il partito un autentico suicidio. Uno dei tanti effetti, dicevamo, della notte che ha deciso che il futuro del regno doveva essere fuori dall'Unione. Una notte che ha lasciato metà del paese sotto sciocco, una metà del paese che adesso tenta tutte le strade per tornare indietro. La petizione è lanciata sul sito del governo subito dopo la vittoria del Lib perché si torni a votare con condizioni più stringenti. Vittoria assegnata solo con il raggiungimento di almeno il 60% dei voti e con una partecipazione di oltre il 75% degli elettori sta letteralmente facendo incetta di sottoscrizioni. Stamattina ha oltrepassati 3 milioni di firme, una valanga in più delle 100.000 necessarie perché possa essere discussa in Parlamento. In realtà non ha speranza di vincere perché quello che di fatto chiede è un intervento retroattivo che la legge non permette. Ma è certo un segno del profondo discontento della spaccatura drammatica che è uscita dal voto. Come ha detto la leader indipendentista scozzese Nicola Sturgeon che si sta già muovendo adesso per un nuovo voto sulla possibilità di lasciare il Regno Unito dopo la Brexit, questo paese non è più lo stesso. E da domani comincerà ufficialmente la girandola delle negoziazioni che dovranno sancire il divorzio tra Londra e Bruxelles. Negoziazioni che avverranno principalmente appunto a Bruxelles. Sullo sfondo ci sono anche gli Stati Uniti. Infatti proprio domani arriverà a Londra per poi trasferirsi a Bruxelles il segretario di Stato americano John Kerry che incontrerà tra l'altro l'alto commissario per la politica estera europea, Federica Mogherini. È urgente, questo trapela dalla cena informale ieri a Parigi tra il presidente francese François Hollande e Matteo Renzi. Bisogna far uscire la Gran Bretagna dall'Europa in tempi brevi per dimostrare che l'Unione a 27 è comunque forte e vitale. Ma allo stesso tempo non si possono più dilazionare una serie di riforme che vanno verso una maggiore integrazione, verso un'Europa più solida. I temi cardine sono sempre i soliti, l'immigrazione e la ripresa economica. Renzi ed Hollande si sono dati sei mesi di tempo. Roma vuole che ci si impegni subito sul Migration Compact. Parigi propone una Schengen 2 con controlli alle frontiere esterne fortemente rafforzati per tranquillizzare tutti. Per l'Italia è anche il momento di cambiare le regole sugli investimenti autorizzando lo scorporo dal patto di stabilità di una maggiore percentuale non solo di investimenti pubblici ma anche degli incentivi statali per incoraggiare gli investimenti privati. Una richiesta quest'ultima che sarà dura da far digerire alla Merkel anche in tempi di emergenza. La cancelliera ha di fatto una posizione diversa sull'uscita di Londra. Tanto per cominciare non vuole da parte dell'Europa un atteggiamento punitivo ed ha chiesto alle istituzioni di Bruxelles di prendersi tutto il tempo necessario per lavorare bene. Ma allo stesso tempo ha ammonito gli inglesi a rispettare tutti gli impegni presi con i partner fino a che non saranno del tutto fuori. I tre insieme agli altri leader europei dovranno raggiungere una posizione comune per martedì prima del vertice nel quale Cameron presenterà tutti il risultato del referendum. Juncker vuole dare l'impressione al premier britannico dimissionario di un'Europa che procede speditamente davanti allo stallo di Londra. Ieri il presidente della commissione ha sistemato la prima questione pendente quella del commissario britannico alla stabilità dei servizi finanziari Jonathan Hill. Dimessosi su invito del Parlamento di Strasburgo e sostituito con il vice di Juncker Valdis Tombroskis. L'Unione è anche individuato in DDSU, diplomatico belga, la persona alla quale affidare la guida del negoziato sull'uscita del Regno Unito. Un messaggio chiaro per Londra. L'Europa è pronta a sedersi al tavolo ed ha poca pazienza per le beghe politiche interne della Gran Bretagna. E domani il presidente del Consiglio Matteo Renzi che come avete visto ieri si trovava a Berlino dove ha incontrato Angela Merkel ma anche François Hollande il presidente francese. Domani Renzi riferirà in Parlamento quello che è la posizione italiana. Infatti sono molte, moltissime le situazioni complesse da risolvere. Il nostro paese è coinvolto in primissima linea sullo sfondo di tutto quello che sta avvenendo, sullo sfondo della Brexit naturalmente ci sono gli argomenti più importanti che sono quello dell'immigrazione ma anche l'economia. L'Italia è un paese molto fragile, si fatica a crescere, lo si fa a meno della media europea e poi c'è anche il punto dell'immigrazione. Vediamo. Domani la Brexit approderà nel Parlamento italiano, il Premier infatti spiegherà alle Camere, al Senato alle 11, a Montecitorio dopo i passi agli scenari di questi giorni, frenetici per Renzi. Ieri faccia a faccia con Hollande, domani l'ingresso a Berlino nella nuova cabina di regia europea con Francia e Germania, paesi fondatori. Un upgrade che Renzi può spendere a Roma ma soprattutto che spera di utilizzare per dare una sterzata a Bruxelles. La direzione la indica chiaramente in una lettera aperta al sole 24 ore. Le politiche di austerity hanno cancellato l'orizzonte, scrive il Premier. Non si tratta di fare lecicale ma senza crescita non c'è lavoro, senza investimenti non c'è domani. Altra agenda da impostare è quella sui migranti, finora troppo sbilanciata sui paesi come il nostro più colpiti dagli sbarchi. Ma non si tratta di una scommessa già vinta, anzi l'Italia più esposta di altri paesi per via del debito rischia di entrare in un periodo di turbolenza finanziaria, necessario evitare il contagio, dare segnali di stabilità. In questa chiave diventa un vero e proprio test per l'esecutivo l'appuntamento con il referendum costituzionale di ottobre che rischia di catalizzare lo scontento antisistema. Per disinescare questo rischio si moltiplicano gli appelli a Renzi a non personalizzare l'appuntamento. Dopo Napolitano oggi è uno dei padri nobili del PD, Veltroni, a dire bisogna evitare che diventi un'elezione politica cammuffata, ma il suo messaggio si spinge oltre fino alle fondamenta su cui poggia il referendum, la legge elettorale. Bisogna fare una riflessione, chiede, tenendo conto che il paese non è più bipolare ma tripolare. argomento già speso dalla minoranza PD, battagliera sulle riforme ma pronta a sostenere il segretario sulle questioni europee. Terreno di sfida del centro-destra, chiamato ieri da Salvini ad aprire un cantiere. Leghe Fratelli d'Italia, indeboliti dalle amministrative, hanno rialzato la testa intestandosi la vittoria della Brexit. Linea che non convince forse Italia, partito ancorato all'Europa e al gruppo dei popolari. A sorpresa invece i Cinque Stelle scendono dal carro della Brexit e con Grillo chiedono di ripensare l'Europa, non scioglierla. Finisce così anche il matrimonio a Bruxelles con Farage, leader del partito britannico, promotore del referendum, Lu Kip, lascerà il gruppo e i Cinque Stelle dovranno trovare una nuova famiglia. Come è stata la prima volta deciderà la rete, nel nostro caso, quale sarà il destino della delegazione del Movimento Cinque Stelle all'interno delle delegazioni del Parlamento europeo. Ecco, ma domani è anche la giornata in cui riaprono i mercati dopo il venerdì nero nerissimo del post-referendum, mercati che hanno perso un fiume di denaro e che oggi prova a rassicurare di nuovo John Kerry, il segretario di Stato americano, che dice, voglio dire ai mercati che l'Unione Europea senza la Gran Bretagna è un mercato di 440 milioni di persone, dunque è un'entità molto forte. Vediamo. 3 trilioni di dollari, un numero difficile da immaginare per il comune cittadino, ma questo è quello che hanno perso i mercati globali venerdì dopo la decisione della Gran Bretagna di lasciare l'Unione Europea. Il petrolio ha toccato il minimo degli ultimi quattro mesi, colpendo le finanze dei ricchi stati del Golfo che proprio a Londra comprano immobili, azioni, squadre di calcio e che adesso stanno ripensando le loro strategie di investimento. Come la Cina, che considerava la capitale del Regno Unito testa di ponte per accreditare la sua moneta e il renminbi come valuta di scambio per il commercio mondiale alternativa a dollaro ed euro. Pechino è molto seccata da tutta questa vicenda e sta pensando a cosa lasciare o muovere da Londra. Weekend di riflessione invece per i banchieri centrali che si stanno incontrando in Svizzera al meeting annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali. Qui ne stanno approfittando per fare il punto e coordinare, cosa programmata da tempo, azioni comuni perché a partire da lunedì i mercati valutari e azionari possono funzionare senza scossoni. Le banche centrali monitoreranno attentamente il funzionamento dei mercati, la stabilità e coopereranno in modo coesa, ha detto il presidente del Global Economy Meeting, Agostin Carstens. Fondamentale sarà fornire liquidità sufficiente a banche o aziende che dovessero averne bisogno. Per il resto non c'è che da aspettare la riapertura dei mercati e sperare per il meglio. Ma la Brexit da dramma potrebbe anche diventare opportunità per le città che ambiscono ad ospitare le banche e le multinazionali che hanno già detto avrebbero fatto le valigie in caso di Brexit. Francoforte e Don Kong alle candidati ideali, ma anche Parigi e Milano. Ho lanciato l'idea, per esempio ho lanciato l'idea di avere a Milano l'agenzia bancaria europea, ma è chiaro che più che lanciare l'idea non posso fare. Serve la collaborazione col governo che però mi pare molto molto interessato ad avviare un percorso che può portare a un ruolo più significativo di Milano. Ne ho già parlato con Renzi, adesso vediamo. Allora, occhi puntati sulla Spagna oggi che vota a soli sei mesi di distanza dal voto delle politiche di dicembre. Questo perché non era stato possibile formare un governo. Ci sono tutti i partiti che oggi si esprimono contro Podemos, la forza di sinistra che è accusata di essere roscettica e di puntare verso un referendum per la separazione della Catalogna. Dunque l'effetto Brexit anche sulle elezioni spagnole potrebbe esserci. Le bandiere dell'Unione Europea, esposte da finestre e terrazze, è con lo spirito più europeista d'Europa che la Spagna torna oggi alle urne. E lo fa a sei mesi da quel voto, era il 20 dicembre del 2015, che ha reso impossibile la formazione di un governo. Per gli oltre 36 milioni e mezzo di elettori, i seggi sono aperti dalle 9 alle 20, le 21 alle Canarie. I sondaggi realizzati prima della Brexit danno i quattro partiti principali, tutti al di sotto del 30%, con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea che potrebbe essere destabilizzare gli spagnoli ed influenzarne le scelte. I sondaggi, dicevamo, danno per stabili al 29% il partito popolare del 61enne premier uscente Mariano Rajoy e al 21 il partito socialista operaio del 44enne professore di economia Pedro Sanchez. In crescita al 25% Podemos del 37enne avvocato Pablo Iglesias e al 16 sui Dadanos, la piattaforma civica fondata da Albert Rivera nel 2005. Percentuali tutte troppo basse per arrivare a formare un governo stabile. Il voto di questa domenica di fine giugno dunque va letto soprattutto nel senso delle possibili alleanze. All'indomani dell'ennesimo scandalo che vede coinvolti il ministro dell'interno e il magistrato a capo dell'autorità anticorruzione, la destra potrebbe unire le forze. Il partito popolare di Rajoy potrebbe allearsi a Ciudadanos, contrario all'indipendenza della Catalogna. A Barcellona in queste ore i cittadini osservano con attenzione ciò che accade in Scozia dove il popolo chiede alla prima ministra Sargeants un referendum per staccarsi da Londra e rimanere nell'Unione Europea. Situazione più complessa a sinistra dove il partito socialista operaio di Sanchez rifiuta di allearsi con Podemos di Iglesias che del resto aveva già scartato a dicembre questa possibilità. Mentre però sei mesi fa sia la destra che la sinistra erano lontani dal numero magico dei 176 seggi, ora alcuni analisti ipotizzano che potrebbero farcela con un Idos Podemos, vale a dire la coalizione tra Podemos più i comunisti di Isquierda Unida, rimessi in gioco da Iglesias. Se non dovessero farcela potrebbero però scalzare i socialisti e diventare la seconda forza del paese. Sebbene con un prodotto interno lordo in crescita, quella che torna oggi alle urne è una Spagna stremata dalla crisi e dai sacrifici legati alle misure di austerity imposte dall'esecutivo, con un'economia ancora debole e una disoccupazione superiore al 20%. A un paese così, dicono in molti, è urgente ridare ordine e stabilità. Come abbiamo visto l'ondata anti-euro, l'instabilità politica in Europa coinvolge da vicino gli Stati Uniti e sembra anche preoccupare gli americani, visto che tutti i sondaggi di queste ore d'anno Hillary Clinton in grande risalita rispetto al tycoon Donald Trump. Lui, Donald Trump, si sente in particolare sintonia con la marea populista che sta conquistando il vecchio continente. Eppure il primo effetto della Brexit sulla corsa alla Casa Bianca premia inaspettatamente la sua rivale, la democratica Hillary Clinton. Secondo l'ultimo sondaggio di Reuters e Ipsos, l'ex First Lady avrebbe un vantaggio in doppia cifra, 13 punti, cosa che non accadeva da settimane. Lo shock della vittoria del Liv, insomma, potrebbe favorire proprio lei, anziché le magnate newyorkese. Per l'elettorato statunitense, spaventato dal terremoto sui mercati che non ha risparmiato neppure Wall Street, Hillary Clinton incarna la candidata più affidabile e rodata. Al contrario di Trump, che rappresenta l'incognita, la scheggia impazzita. E le parole del tycoon in Scozia per visitare il suo resort iperlussuoso confermano questa tendenza. Il mondo è in tumulto, spiega il candidato repubblicano Impectore. L'Europa ha fatto troppi errori sull'immigrazione e la politica monetaria e la Gran Bretagna ha scelto comprensibilmente l'indipendenza. Nella lettura di Trump, tuttavia, le difficoltà dei mercati, in particolare di quello nordamericano, sono legate al debito mostruoso accumulato da Obama, che non ha capito nulla ed è venuto a Londra per dire che in caso di Brexit sarebbe stato un disastro e che la Gran Bretagna si sarebbe posizionata all'ultimo posto della fila. Trump ritiene inevitabile la disgregazione dell'Unione Europea. I prossimi saranno Francia, Spagna e Italia, paesi in difficoltà, pronti alla loro versione della Brexit, pronostiche le magnate, che sul premier italiano è addirittura velenoso. Renzi appoggia Hillary? Non lo conosco neppure, non mi importa, il suo è un parere irrilevante. Non si salva neppure Angela Merkel, la stimavo molto Tagliacorto Trump, fino a quando ha preso quella decisione sciagurata di accogliere i rifugiati, così ha trasformato la Germania in un paese da cui i suoi abitanti vogliono scappare. Ora torniamo in Italia perché un colpo molto importante è stato assestato dalle forze dell'ordine contro l'Andrangheta calabrese. Nella notte, infatti, è stato arrestato, è finito in manette. Ernesto Fazzalari, che è il secondo uomo più ricercato d'Italia dopo il siciliano Matteo Messina Denaro. Condannato già in contumacia all'ergastolo, l'uomo, il latitante, è stato trovato a casa sua nella Sfromonte. Lo cercavano da vent'anni. Nel governo e tra gli inquirenti grande è la soddisfazione perché Ernesto Fazzalari, 46 anni, super boss dell'Andrangheta calabrese, è considerato uno dei latitanti più pericolosi finora in circolazione in tutta Europa. L'ultimo di quelli storici, un criminale di grande spessore. Secondo soltanto, nella graduatoria del programma speciale di ricerca, a Matteo Messina Denaro, la primula rossa di Castelvetrano. I carabinieri del gruppo di intervento speciale lo hanno sorpreso nella notte. Il suo covo era in una isolata frazione montana a Molocchio, nel Regino. Un boss ritenuto al vertice delle cosche a Tauria Nova, molto radicato sul territorio in Aspromonte, ma considerato tra i più influenti nelle gerarchie apicali dell'Andrangheta, con un ruolo di primo piano anche nel controllo dei ricchi traffici di droga, tra le principali forme di arricchimento per la mafia calabrese. Sul suo capo pendono due condanne all'ergastolo per associazione mafiosa, rapina e per un duplice omicidio. La cattura di Fazzolari è il coronamento di un meticoloso lavoro di indagine portato avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Continuiamo a combattere la criminalità ovunque, palmo a palmo, casolare per casolare. Alla giustizia non si sfugge. Dal premier Renzi, primo a diffondere sui social network la notizia della cattura ai ministri Alfano e Pinotti, per l'esecutivo è il momento dell'orgoglio. Come era prevedibile l'uso della parola genocidio da parte di Papa Francesco di Bergoglio per definire il massacro degli armeni da parte dei turchi nel 1915 ha provocato la forte reazione di Ankara a parlare al vice premier turco, lo vedete, Canikli che dice che le attività del Papa e del Papato portano le tracce e i riflessi della mentalità delle crociate. Aggiungendo che quella del pontefice non è una dichiarazione imparziale né conforme alla realtà. La Turchia nega che il massacro degli armeni durante la prima guerra mondiale sia stato un genocidio pianificato e calcola il numero di vittime tra 250 e 500 mila, mentre per gli armeni e gli storici internazionali i morti sono stati circa un milione e mezzo. Siamo adesso arrivati lo sport e naturalmente tutta l'attenzione per gli europei di calcio e per la partita tra l'Italia e la Spagna. È il giorno della vigilia, domani l'Italia affronterà la Spagna negli ottavi di finale di Euro 2016. Loro sono i giganti, l'estro il calcio creativo, l'Italia è operaia, tutta solidità e cuore. Due filosofie contro allo Stadefense di Saint-Denis. Nella banlieue parigina, nella prima partita da dentro o fuori per gli azzurri, chi sbaglia torna a casa, chi vince proseguirà l'avventura agli europei. Corsi e ricorsi storici per un ricordo che brucia e brucia ancora troppo, quando il pensiero torna a quattro anni fa, Kiev finale degli europei, Spagna-Italia 4-0, per le furie rosse è il terzo titolo di fila tra mondiali ed europei, per l'Italia è una vera e propria umiliazione. Sono rimasti in pochi di quella squadra, ma quei pochi aspettano domani per cancellare quell'onta. Gli azzurri di Conte sono scesi in campo stamattina per l'ultimo allenamento presso il centro Bernard Gasset, fatta eccezione per il laziale Antonio Candreva, che salterà la partita contro i campioni d'Europa per via dell'infortunio muscolare, rimediato nel match contro la Svezia. Il provino di ieri ha dato esito negativo e Conte deve rinunciare così ad uno dei suoi uomini migliori nella partita della vita, che mette di fronte appena agli ottavi due delle squadre più importanti, complice a una formula, quella 24 squadre che non convince ed il relativo calendario che eliminerà a giocoforza le favorite da una parte del tabellone. Una partita che in caso di parità potrebbe anche decidersi ai rigori e Candreva è uno dei rigoristi che mancherà al CT. Al posto di Candreva giocherà Florenzi che Conte adatterà al ruolo del laziale senza cambiare modulo. A sinistra resta da scegliere ancora tra Darmian ed Esciglio, per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto il Belgio nella gara di esordio a questi europei, con il ritorno in campo dei tanti titolari che avevano riposato per il turnover in posto da Conte nell'ultima gara del Girone contro l'Irlanda. Confermato in attacco il duo Pelé-Eder, nel pomeriggio la squadra partirà dal ritiro di Montpellier, destinazione a Parigi, dove in serata è prevista la conferenza stampa di Conte e molto probabilmente di Buffon. Per la sfida con la Spagna sono stati acquistati 3.700 biglietti dai tifosi italiani. Con il calcio si chiude il nostro telegiornale, sono le 13.53 minuti, vi ricordo però Caterina Bizzarri e TG Cronache, dove vi daranno tutti i dettagli dell'importante arresto in Calabria del boss Ernesto Fazzalari, che era ricercato da tempo il secondo latitante più ricercato in Italia dopo Matteo Messina Denaro di Castelvetrano in Sicilia. Dunque rimanete con noi per TG Cronache, grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Arrivederci.